Sono qua, sono qua, ho fatto partire questa diretta senza insaputa delle persone che stanno vicino a me. Noi siamo nel bar, in questo posto che non vi possiamo dire, con me ci sono Francesco. Perché parliamo sotto luce? Non so, perché sembrava una cosa segreta. Ah, non lo è? Allora puoi prendere la signora? Ma beffa Pia! Criticano tra di loro, per chi deve pagare, guarda dove siamo arrivati. Guarda, guarda, stanno litigati. No, no, non è bello. Cosa pagare? C'è Francesco qui. C'è Francesco. La carta, aspetta un attimo. La carta, beffa, la carta. Mi stanno chiedendo a ciò che so, chiedete qua. Vuoi qualcosa? No, no, ma... Non vuoi qualcosa? No, io... Ma siamo in diretta, ma chiedono qualcosa. In diretta, in diretta Facebook. Ecco qua, facendo. C'è anche lui che non vuole partecipare stasera. Come mai? Per solo. Ormai discutiamo. Stavo dormendo. Stiamo facendo. C'è la gotta di sole. Eccolo qua. Siamo nello stesso posto di ieri e dell'altro ieri. Sì, non ti si vedete. Mandate, scusate, mandate un attimo una vrancata di cuori. Sì, dai. Come si vanno nei cuori? Ma adesso se lo vedono loro. Loro noi abbiamo chiesto una vrancata, vrou, così come se piovesse. Ci salutano. C'è Angelo, l'amico mio. Angelo, Angelo. Quando vincevano, il gruppo di Clementino, dell'Aiena Socca. Dai, dai, dai. Ma tutti quattro lì. Ci siete tutti. Allora, stasera avremo anche degli ospiti. Abbiamo pure le veline. Ci sono le veline. Guarda là. Eccola qua. Arossa. Anzi. E allora, sono l'ella, lei. Purcucchella. 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 Diamo Purcucchella. Purcucchella che? E niente, forse avremo degli ospiti. Aspettiamo, c'è anche lì a Cutino, la salutiamo. Lì, a dove ti trovi in questo momento? Eccolo qua, stanno entrando un sacco di gente. C'è anche Cainatema, Cainatema. Eri, corri, 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 corri. Salute a Cainatema. Ciao Cainatema. Pirmemmo a Cainatema. Sto facendo il gioco. Salute a Cainatema. Ciao Cainatema. Ciao Cainatema. Facci sentire che stai sentendo. Facci sentire che stai sentendo. Allora, tra poco avremo in diretta un ospite che non è d'accordo sulla sua presenza. E noi a livello di violenza, a livello di lamurria, a livello con l'ultimo in mano colpa, lo facciamo partecipare. Io vorrei anche cantare una bella canzone. Signori, canterà di Francesco di Francia. Di Francia, ma Francia canta Francesco di Francia. E il titolo della canzone è? Francia. No, Fonesta Vascia. Fonesta Vascia. Ma la gualla no. La gualla di tutti. Sto scherzando, non canto affatto. Vedi i cuori che... Ah, c'è anche Andrea Campettieri. Andrei, se lo faremo lì. Allora, sei pronto Andrea? Non te ne andare, ti faccio vedere un ospite. Un ospite? Un attimo solo, ma andiamo perché... No, no. Ma faccio. Aspettate. 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 Sa tu me la creatura? Sa tu me la creatura? Si. Tu sei la tu me la creatura? Ma che te vanno a fare una guilla? Ma che te vanno a giù? Ma non ti vanno a nire? Ma perché? Ma devi attenire nire. Faccio abbronzare oggi, vedi? Ma perché ci sono i bici un bel po' Ma con me, non si dà di luce? Scusate, vuoi appicciare un logo qui? Un reggisci nostro Gigiotto, siamo reggisciati Gigiotto, speriamo che ci scrivono bene Ha appicciato qualche luce Bellissimo Allora ragazzi, sono qui con questo ragazzo Mi sembra che il padre era proprio il tuo pallone No, è un fantetto, guarda, guarda Mi sto allenando pure, ho tutto il cuore Eh, ma non è cosa tu, scusami Ma tu hai una fatica, tu non hai qualcosa Sto assomassato Oggi è male? 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 Comunque Peppe, veramente Se c'è qualcuno che mi può aiutare con i rapetti Qualsiasi cosa, guarda Allora, ho un annuncio Tengo i figli, capite? Cioè, ci fai qualcosa Allora, ho un annuncio C'è questo mio amico che ha Qualsiasi cosa? Oggi pure una cianca Qualsiasi cosa? Un bisciavino Un bello bisciavino Chi l'è bello? Chi l'è si mette? Lo sai per fare? Fai vedere se lo sai fa Allora, facciamo mettere un casting Allora, voglio vedere chi ha fatto Allora, ho futtato io Lo sai fa? E' panorale, mazzano Scusate, scusate Peppe Vai a Peppe, torna a casa Lascio a te Peppe, sta in vacanza Ma guarda, ma allora Peppe, fammela buona pubblicità, veramente Allora, ragazzi Allora, per le vostre partite di calciotto No, non sapete Ah, no, scusate Ma pure il matrimonio e il comunione accantando Allora, sapete pure il matrimonio e il comunione Accantando Allora, ragazzi, veramente Se nel caso Perché a Malouas Vaglio una mese a navi Vaglio pure il matrimonio accantando Allora, non sapete Allora, questo sapete Fai quasi niente Matrimonio e un battesimo Cosa stiamo facendo? Siamo fai quasi niente O Ferrara O Ferrara O Ferrara O Ferrara O Ferrara Ehm, per esempio la Cantarelli O Ferrara O Ferrara Allora, veramente un bello giardinino Serra qua il piano Comunque ho saputo che in un villaggio in Sardegna Cercano chiedere che porti le macchinette E tu e me? Portano le macchinette Che vengono a fare La sanno portata La sanno portata la macchinetta Sto a fare niente Allora, per esempio, pure per esempio Che ne sai? C'è festa dei paesi Ehm A Bancarelli con Torrono Con quelle tre O per il mousse Cosa fare con sale e limone? Allora, ci serve A qualcuno può tagliare e mettere sale e limone Adesso non so Allora, abbiamo questo ragazzo Che ha sale e limone Allora Può mettere sale e limone dove volete? Perché il Torrono Il me ne ha la terrazza Il sei me ne ha la terrazza salutiamo il ragazzo che cerca lavoro anche stasera sono stati con noi ecco qua ragazzi è grandioso Ciremobile è meraviglioso salutiamo tutti coloro che sono qua Giovanna Scogna Miglio ciao ciao salutiamo a tutti Francesco de Fraia è chissingue e meglio ma io non sto scrivendo è bellissima alla prossima non giocherà la lazio con il mobile io c'è il mobile noi salutiamo tutti è stato un bel momento di sport di spettacolo c'è anche Esilia mia amica è 이�g Mansi che siete lassi io dice sparati grazie salutiamo tutti stasera Francesco De Fea a mio Manfredi a signora Coutinho la partecipazione di Peppe e Iodice siamo tutti la partecipazione straordinaria di Ciro e Mobile con noi anche stasera da questo posto che non è un posto ci rivediamo forse la prossima settimana forse domani sui vostri canali quindi tutte le sere facciamo questo Anna ma di una maniera qualcosa bisogna pur fare dai ragazzi e perciò leggeva a voi e potete